bella a tutti bentornati sopra qui su metal gear joe ha il comando e ha deciso di farsi sgamare così no in realtà è per raggiungere un po di pezzi no è finito silenziatore io ti avevo detto fai datti sto ripornimento no lo sai che io sono testardo ma quindi te la vuoi fare purista joe? eh ma io pensavo che c'è andando qua sopra purista joe purista scendi qua c'è una scala anche lì eh se vuoi salire giusto te lo dico quello è il vero radar chi ha detto via di vero no come faccio il ranger così ok com'è che si faceva a farlo saltare per aria non è così così hai sentito l'esplosione sì ma perché tu speri di attirarli tutti là? ma hai rotto il cazzo con questo cazzo di chissà perché ha avuto sempre kojima ha avuto sempre questa fissa del se ci pensi della scatola cioè te sarebbe mai venuto a mente? no che in un film di spionaggio lui usa la scatola cioè io voglio sapere che cosa pensano i nostri utenti di questa scelta stilistica che ormai c'è in ogni Metal Gear Metal Gear cosa sta facendo? ti giuro che non sono stato io no perché non ci puoi stare lì capito? adesso devo rimettermi che cazzo si fa così perché questa qui è silenziata gli sparo le gambe e poi gli spedisci? no ma non è possibile cioè ti giuro perché ogni tanto fa così? ma non puoi hai capito? cosa hai fatto? eh no perché ho schiacciato la... è l'allarme ma quella lì è una telecamera? no già è vero in questo Metal Gear non ho ancora visto una telecamera in ground zero ce n'era quello che cazzo è? ma sono un coglione cioè ti sei messo proprio nel... ma no ovviamente non volevo spediscilo ma cosa fa? ma... sei un coglione di merda Gio ormai il fallimento... ma scusa gli ho puntato l'arma addosso eh ma ormai era gasato ti stava sparando cioè dovrei andare di là però facciamo esplodere facciamo esplodere no dicci che li hai distratti credo no 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 stanno sparando con tutto quello che è andato eh no ti hanno proprio... si sono presi male si sono presi male per la tua operazione ci... ah è proprio... si gioca a wrestling dai dai mandali tutti nello spazio noi dovevamo andare verso di qua ma cosa fai? ma cosa fai? Gio ma ce la fai? oggi sei in giornata veramente non so... le altre volte sembri purista invece questa volta sembra tipo bonde che gioca non me lo interrogava non me lo interrogava beh non ho ucciso nessuno... chi è che ho ucciso? non ho ucciso nessuno porco giuda adesso ti rubi stegno ma mi dici cosa sbagli il tale per cui... non lo so perché adesso ho fatto attenzione guarda il resto per noi guarda il resto per noi guarda il resto per noi questo qua? guarda il resto per noi ma lui è dormito tutto il suo tempo se ci pensi è una cosa fantastica c'è una sonno pesante c'è una sonno pesante che cazzo cosa sta facendo? vuoi salire le scale? ma che pro? non lo so ma perché anche lei? mi sembrava un uomo perché gli dà del lei no? ma tra l'altro come mai è durato così poco il... il... l'allarme? eh ma che cosa ho là? madonna mia che handicappato cazzo dai usa la granata sta arrivando una tempesta di sabbia eh e d'altro dov'è che ero? no l'hai fatto saltare prima Joe no ce n'era un'altra ancora no ma allora mi trolla cioè c'è un cazzo da fare era la boh attento quando caschi eh che vedo che che vedo che allora zio no no ma cos'hai bevuto prima di... no spiegamelo perché mi... la missione è dall'altra parte si ma io voglio scendere puttana adesso muoio cazzo perché non mi fa scendere? ma ne fai un... ma sono sceso così su cazzo ma ne fai una questione di onore si spiegami vedi che là c'è un altro coso no aicio puttana se le so fatto anche ma è quasi morto quindi se il cardamore da sopra morivo bene bene no ma ogni volta... la devi far finita con sta scatola hai rotto il cazzo non voglio dirtelo però cioè va bene tutto ma qua non c'era eccolo la e tu lo sapevi vedi che non sono pazzo vedi che l'avevo visto in radar ma che stasera devi spaccare tutti dici che riuscirò a tirare una granata da qua sopra secondo me no cioè poi non voglio essere sempre quello negativo però fare il trucce ballazzi della situazione allora vediamo vendetta vera però dai ci arrivi forse provaci minchia se sei andato lungo prova così ora giù mi raccomando ecco le scale e poi sono convinto che i nostri utenti vogliano vedere come finisce questa missione ma alla fine della fila dov'è che dobbiamo andare in tutto ciò lì lì ah devo salire sulla macchina dici che devo salire sulla macchina no secondo me devi entrare in quella porta che è marcata ok ok e andare avanti aspetta che voglio datemi un'arma carica e tanti cari saluti all'approccio stealth ma guarda che quella è silenziata carota nera anche i progetti bisogna dargli un'occhiata eh eh ma diventi sgama dopo che abbiamo fatto un bordello ma chi sarà questo o kazuira miller the soviet guards airborne regiment let me suffer now non è ancora un'operazione il pilota e controllo AI non sono arrivati all'applicazione chi ha detto qualcosa sulle AI che era l'errore 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 be that as it may we'll need to modify postural control to accommodate a human pilot i share your urgency but we need more time to finish it we need more time to finish it right planning on leaving us doctor l'errore 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 Ну l'errore l'errore layer dun coma musé tr Ha preso troppo sole questo qua, si è bruciato tutto Raga mettete la cremina solare quando andate in spiaggia Voglio la tua interpretazione, quello lì è un Metal Gear? Beh sembravo di sì Cioè quello sullo sfondo, no? Quello piccolino Quindi, quindi, quindi adesso? Quindi, quindi, quindi Rubiamo il Metal Gear Fultoniamo il Metal Gear E' uguale, guardalo Eh sì, c'era il Metal Gear, cavolo Sei eccitato Ma perché ce l'hanno i sovietici, non ce l'hanno gli americani? I Metal Gear Eh, boh, ma siamo in Afghanistan, succede di tutto Ma comunque lui, Skull Face, non è un sovietico Cioè sembra più una Un fenomeno da cerco Potrei dire un fenomeno da cerco Destinato All'inferno Sì, però dai, rovescia la Coca-Cola sul computer Che rita su tutto Sì L'analisi completato Guarda in alto, siamo in una grotta Cazzi C'è anche un buco No, lascia un buco Qual è quello? Giù E' questo qua quello da estrarre Vi dice Ah, là ci sono delle info Quei due cosi lì sarebbero da tirare fuori Ma non possiamo ancora Perché il nostro fullton non è abbastanza potente Ma mi si può svegliare mentre Me lo porto in giro? No No? Puoi anche cadere Ti do questa news Cosa vuoi dire che puoi anche cadere? Cioè se adesso ti butti di sotto Non si svegli Beh? Eh, devi lasciarlo Perché devi scannerizzare Non è che dopo che lo scannerizzano Cominciano ad attaccarmi Perché sarebbe un bel legno Voglio anch'io sto coso, cazzo Ma ti manda fuoco a casa? Non vedi che c'è il fumo dopo Come c'è il fumo? Eh Però vedi che usa i campi sovietici Quindi deve avere una gabola con i sovietici Quindi deve avere una gabola con i sovietici Eh li avrà comprati Che cazzo devo dire Allora vediamo un po' Il buco dove Dobbiamo andare là sopra Eh mi sa che ti devi Esatto Cosa non si fa Per le risorse umane Eh Mica Veramente No Guarda in alto Guarda in alto Che cazzo è il buco? Eh Forse lì No 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 Vabbè Senti Ce lo portiamo fuori Cazzo Devo dire No ma Prova lì in mezzo Fai un ultimo tentativo Lì in mezzo No Sì cazzo Dai Un ultimo tentativo Gio Non è che te lo puoi portare dietro Ma ecco Fosse l'albero di Natale Vabbè Quanto sei tenace a volte Eh oh Ma tra l'altro Non è per dire Ma bastava Bastava andare qua Che fai? Perché vai Ehi Cazzo Andate di qua Ti è piaciuta Questa entrata Non abbiamo No Il nostro equipaggio E il lancio a fiamma Qui l'unica cosa che puoi fare È tipo Sparare un colpo E colpire Cosa che visto la nostra Il nostro fucile da cecchino Da professionale No ma è molto Di parte di scherzi È molto difficile Hai deciso la strada Stelte a sto giro Non vuoi suonare un pezzo E fare capire Siamo già a 19 minuti E ho capito Cosa devo dire Questo qua Ma cosa sta facendo Si sta Sta atterrando Eh Quanto pare Sì Allora Forse conviene Passare dall'altra parte No Ma secondo te Testa di minchia Per chi lavora Ma chi? Skull Eh per cypher Sei sicuro? Eh Non so Come vuoi di sì Ma guarda C'è un tipo là Non è che adesso Quel cazzo di cose Si Inizia a volare Ma sicuro Gio È una delle poche certezze Che ho nella vita Allora Proviamo a fare questo No Sbagliato 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 Mi sa che non ero Abbastanza potente Questo cosa Soprattutto sono due piloti Eh vabbè Ma basta che ne fai fuori uno Penso Parlami di più Di questa tua teoria L'intenzione di andare in groppa Al Metal Gear Cazzo Vabbè Basta con questo Cosa Vabbè al prossimo video Ragazzi Tra un fallimento e l'altro Vabbè